Ciao, ben ritrovati. Dovrei essere in diretta, datemi un segno se c'è qualcuno che mi vede, che mi sta vedendo. Aspetto che si colleghi Alberta di Tabata Shop, con la quale oggi continueremo il tema del portare in inverno, ma andremo ad approfondire le cover. Ciao Davide, mi vedi bene? Mi vedi, mi senti? Sto aspettando Alberta, che immagino si connetta dal profilo Tabata Shop. Alberta, non vedo, ecco qua la richiesta, vediamo un po' se riesco a... Ok, intanto sono contenta che si veda bene. Ecco Alberta, ben arrivata. Ciao! Ciao, via. Guarda, partiamo subito dalla grande, facendo cadere il telefono. Aspetta, eh. Vediamo se riusciamo. Ecco. Ciao intanto a tutti quelli che si stanno collegando. Bene, Alberta, ce l'abbiamo fatta. Ciao. Guarda, oggi ti ho fatto oggi, ti ho messo come tu hai sempre queste bellissime collane dell'allattamento. Oggi ho messo la mia preferita. Brava, bene, bene, bella, bella, bellissimo. Facciamo la milanese. Sei a Milano adesso? Sei a Milano? Sì, sì, sì. Adesso poi la levo perché sennò non riesco a mettere tutti i supporti. Ok. Però ho detto, no, la devo mettere. Ho visto anche la storia di prima, ho detto, lei ha sempre le collane dell'allattamento. Pur non allattando più da millenni le uso sempre. Vabbè, ma fa bene perché sono ancora poco conosciute. Io, incredibile, a volte noi diamo per certe delle cose che non sono certe. Certo. Quindi. Allora, benvenuta. Oggi appunto parliamo di, portarmi in vero, ma parliamo delle cover. Quindi, prima di cominciare, magari se hai voglia di raccontare qualcosa di te, perché appunto in una delle stories precedenti hai messo oggi diretta con consulente e consulente. Quindi magari appunto non tutti sanno che da Tabata Shop adesso c'è anche una consulente. Quindi se vuoi raccontare qualcosa anche di te, quello che vuoi. E poi iniziamo. Allora, sono molto emozionata, perché dire la parola consulente di fronte a te mi imbarazza quasi, sono onesta. Vabbè, diciamo che ho cominciato anche io questo percorso, perché poi appunto, arrivata a Tabata Shop, posso ma rispetto a Davide che era fondata, però mi sono resa conto che era necessario. A me piace fare le cose, piace farle bene. Non riesco ad approcciarmi in un modo approssimativo. Ti sei bloccata. C'è la connessione è batterina. Non so se è la mia ora. Scusami, no, mi era arrivata una chiamata purtroppo. Ok, ok. Ho pigiato e speriamo che non le chiamino. E quindi in questo mio voler affrontare le cose un po' insomma, in questo modo, io ho detto a un certo punto, no, no, basta, io devo sapere, devo sapere tutto bene, devo fare le cose bene, quindi ho fatto il corso. E quindi adesso da un annetto sono consente di portare e mi sto cercando, mi applico tantissimo e mi dà tanta soddisfazione. Bene, sono contenta. Oggi un motivo in più per mostrarci ecco questo aspetto delle cover che non è noto a tutti, nel senso che tanti non sanno neanche che esistono, ma appunto tanti non sanno neanche che esistono neanche le giacche per portare. Quindi il scopo di queste dirette a tema è proprio quello di far conoscere queste possibilità per permettere alle mamme e ai papà di continuare a portare in inverno, perché a volte uno pensa, ma in inverno poi come faccio, no? Perché magari non pensa che esiste questa possibilità appunto di avere queste giacche fatte apposta. E le cover secondo me sono interessanti. Io ho portato tantissima, tantissima, ed era proprio l'arte dell'arrangiarmi, onestamente. Certo. Ecco, adesso fortunatamente ci sono tantissime soluzioni per portare quando fa freddo, per cui sì, va bene anche l'arte dell'arrangiarmi, ma a certe volte non basta, soprattutto quando il freddo è freddo, insomma è meglio avere dei prodotti adatti, insomma ci sono. Sì, appunto, io lo dico sempre nel senso che appunto anche questo aspetto qua, quando portavo io, quindi un po' come te, non c'era, cioè questo mondo era veramente sconosciuto e non c'erano tutti questi supporti, ma anche tutte queste possibilità che ci sono adesso anche di ricevere poi appunto un accompagnamento nel percorso del portare. Quindi sia a livello, cioè c'è stato veramente un boom, sia a livello di supporti ergonomici, sia a livello di accessori, quindi appunto le giacche, le copre e quant'altro, ma anche appunto sempre più consulenti, istruttrici e quant'altro che possano accompagnare le famiglie nel loro percorso. Quindi insomma sicuramente è cambiato tanto, va bene arrangiarsi, ma appunto non sempre è la soluzione migliore. Infatti io nella mia esperienza io ho portato, poi quando erano i mesi proprio freddi freddi che non ce la facevo, con lo sciallone, col poncione, con tutte quelle cose che cercavo di mettere sopra, mollavo in quei mesi, non portavo. Invece adesso ci sono soluzioni che ti permettono di portare veramente sempre in qualsiasi condizione, perché a volte è necessario, soprattutto magari quando arriva il secondo, io il secondo l'ho portato molto più della prima, perché vai a prendere la prima scuola e allora prendi un ombrello, insomma. Però lo fai anche a dicembre, a gennaio, a febbraio, quando fa un freddo becco, per cui insomma poterlo fare anche nei mesi più freddi è un plus per un genitore. Quindi è importante secondo me conoscere queste cose. Io devo essere onesta, fra giacche del portare e le cover, sicuramente trovo le cover molto più versatili, perché la giacca, che sono bellissime, è tua, ovviamente tu la compri, è sulla tua misura, è per te, a meno che magari la persona che porta insieme a te abbia più o meno la tua stessa conformazione fisica, e allora benissimo. Se già non avete la stessa conformazione fisica, è limitante, per cui inevitabilmente... Sì, nel senso che appunto poi succede che se la mamma magari più minuta si ritrova con una giacca molto abbondante e viceversa comunque il papà magari non può mettere la giacca che compra la mamma. Quindi sicuramente le cover hanno questo vantaggio di poter essere versatili in questo senso, quindi possono essere utilizzate tranquillamente da entrambi. Poi ecco appunto, ognuno deve logicamente, come sempre, scegliere quello che rispetta un po' le sue esigenze, quindi appunto lo scopo è anche questo, cioè presentare dei supporti in modo che le persone possano poi scegliere quello che va meglio per loro, anche sulla base proprio dell'utilizzo che ne fanno, perché appunto anche la spesa di una giacca è una spesa sicuramente importante, la cover ha anche in genere un costo minore, e quindi magari per chi porta anche meno può essere anche questa una soluzione. Può essere anche questa una soluzione, esatto, cioè non è proprio, è da valutare secondo me in maniera interessante. Allora, noi oggi parliamo di Mamma Lila e di Mamma Lila io ho dei racconti ovviamente, questi racconti specifici, io poi ho l'esperienza del prodotto in questi anni, ma racconti specifici lo devo dire, non voglio rubare un ricordo, il ricordo di Davide, che mi ha raccontato queste cose quando noi abbiamo tanto e chiacchieriamo, e mi ha raccontato queste cose di Vicky, questa Vicky Marz, la fondatrice di Mamma Lila, che sono molto molto divertenti, perché lei ha cominciato nel 2005 e ha cominciato facendo quello che si chiamava il Mamma Poncio, perché distinto, come dicevamo, noi ci bardavamo, poncio, sciarpone, cose così, però il poncio dovevi essere largo perché non ci stava la testa del bambino. Quindi lei ha creato questo poncio dove c'era il buco per la sua testa e un buco per la testa del bambino, ma li faceva lei, cioè li faceva lei con la lana, ok? Lei si chiamava Mamma Poncio e lei si presentò a questa fiera, la fiera di Ballao, si presentò con, lei è una bellissima donna e io sono certa che Davide non sia stato attratto, almeno non solo, dalla sua bellezza, ma da come si presentò, perché lei si presentò con un forgoncino della Volkswagen arancione, quindi con tutte queste sue Mamma Ponci. Mamma Ponci. Sì, e lei è partita da lì e poi è un'azienda comunque molto bella ad oggi, è un'azienda fortemente etica, è un'azienda certificata proprio come azienda di impatto zero, quindi in lazioni, no? Scusate, Davide scrive in lazioni. Io ho detto, anzi io sono certo che tu sei stato attratto solo dal furgoncino, amore stai tranquillo, però comunque è un'azienda mammalina fortemente etica, quindi ancora adesso riconosciuta proprio come un'azienda ad impatto zero e è un'azienda dove lavorano tante donne, in time, perché comunque sono mamme, un'azienda dove i figli vengono portati dentro l'azienda, magari mi trovano un'azienda, è un posto stupendo, quindi quando Tabata fa delle scelte su quali prodotti vendere, le scelte che noi facciamo sono queste, sono scelte sia sul tipo di prodotto, il primo certo è la funzionalità, mi deve servire, poi scelgo il tipo di prodotto, quindi scelgo la qualità e scelgo anche con piacere se un'azienda è un'azienda così, quindi è un'azienda etica, è un'azienda che supporta il lavoro delle donne e delle mamme, io questo da donna proprio non posso credere. E così siamo felici, esatto, nel senso che comunque mi fa anche piacere logicamente poi, anche rispetto poi al discorso del costo, perché tanti poi dicono, ma queste cover perché costano così, queste giacche perché costano così, sicuramente appunto rispetto ad altri marchi hanno comunque un costo maggiore, ma in questo costo c'è anche tutto questo aspetto. In questo costo esatto, c'è un'azienda etica, per cui c'è un rispetto del lavoratore, c'è dare il lavoro a delle donne, c'è anche il prodotto, poi adesso valuteremo questi tre prodotti, una di queste per esempio cover è in un tessuto che fa molto ridere, si chiama Sympatex, che è la versione diciamo simpatica appunto del Vortex, quindi è fatta di fibre vegetali, allora è ovvio che questo ha un costo, ma è un costo che noi diamo fondamentalmente ci viene ripagato con il rispetto dell'ambiente, una serie di cose fondamentali, per noi è il figlio che stiamo mettendo dentro il Sympatex, per cui insomma lo trovo veramente importante, ok? Allora io ho portato tre cover, diciamo il principio ovviamente della cover è lo stesso, sono leggermente diverse, per cui vanno a coprire più situazioni, per cui aiutano un po' il genitore a scegliere. Ne mostro una, una sola per questione anche di praticità, mostro quella più complessa, quella meno intuibile, quando magari uno può andare a cercarla e non si capisce magari bene come utilizzarla, quindi vado così a rendermi difficile la vita, ne mostro la più complessa. Così il resto è tutto più facile. Così il resto è tutto in discesa. Certo. E no, sinceramente, perché poi in complessa è una parola grossa, in realtà lo vedrete semplicissimo. Sì, no, però magari ha qualche caratteristica in più che merita di essere approfondita rispetto alle altre che sono magari un pochino più basiche. Più anche visto, cioè come funzionano le altre è una cosa che uno ha già visto magari in altre marche. Io per prima questo tipo di cover l'ho vista solo qui, per cui faccio vedere com'è fatto a vedere così la valutiamo insieme. Allora, io parto quindi da questa, cerco di mettermi a una distanza un po' perché intanto un pochino si veda. Sì, sì, nel frattempo ricorda chi ci sta seguendo che se avete delle domande potete tranquillamente scriverle e così appunto se in diretta volete interagire è utile proprio perché così andiamo a rispondere in modo mirato ad eventuali domande che dovessero sorgere. Allora, questa qui è in lana, è lana cotta fuori e ha dentro invece la parte interna è flanella di cotone biologico. Allora, la lana cotta è importante dire che ha un tipo di trattamento da lana per cui è idroretellente, non come un gorotex, quindi non ha grandi quantitativi di acqua, ma la pioggiarella sono fuori, comincia a scendere la pioggiarella, comunque la lana cotta ha un minimo di idrorepellenza rispetto a, non so, mi metto la cover in pile, punto. Ecco, questo è già importante dirlo. E la flanella di cotone all'interno, la flanella è un tipo di lavorazione morbidissima, per di più questa è bio, per cui è veramente super, è un piacere e quindi questa è stata la parte del bambino. Ok, e sono comunque cucite insieme, quindi queste due parti sono proprio… Queste due parti sono cucite insieme, non sono separabili. Ok. Quindi la cover è fatta così, cioè è un pezzo, un unico pezzo. Allora, si mette in un modo un po' particolare, come se io andassi a cucinare, perché… Sì, no, fa ridere, perché vediamo se riesco ad abbassare senza far cadere il telefono, un pochino, mi allontano, perché in realtà ora vado a creare uno strato, cioè io questa cover poi la vado a portare su così. Ok, chiaro. Il bambino, ok? Quindi prendo il mio marsupio e lo metto, adesso poi ci sono delle piccole accortezze ovviamente per l'altezza, è una cover che è diciamo regolabile anche con un bambino più grande, loro la indicano per bambini fino all'anno, anno e mezzo diciamo, come altezza, come contenimento, ecco, diciamo, come contenimento, eccolo qua. Ci sono piccole banalità, insomma, devo stare attenta che il marsupio non scenda sotto questa riga, perché è quella per cui poi possono combaciare tutti i bottoni. Ecco, questa è la cortezza. Io poi vado a mettere il mio bambino, arrivo, andato a prenderlo, ok, voilà, e dopo andrò a chiudere la mia cover, adesso vi faccio vedere come. Ok, allora, è ben fatta, quindi abbiamo detto l'esterno 100% lana, l'interno 100% cotone bio, si può, ecco, si lava a mano, questo è da dire, oppure con i programmi quelli super delicati della lama, ok, va trattata ovviamente con cura, con cura, va trattata con cura, sicuramente, eccoci qua. Quando io ho messo il mio bambino, la vado a tirare. So, dico, ok. Allora, questa cosa qui la posso togliere, ovviamente, questa bretella che ho messo soltanto per evitare di fare cadere, ha dei bottoni, per cui io la vado tranquillamente poi a togliere e vado a tirare su il mio pannello qua di flanella. In questo modo il bambino poggia sulla flanella biologica, così. Ok. Per cui anche tante volte quando noi in inverno abbiamo i maglioni, come per esempio io, o il maglione appunto, che ne so, un po'... Sì, sì. Che magari può dar fastidio, no? Certo, può dar, certo, certo, alla pelle. Alla pelle del bambino. In questo modo, in realtà, il bambino poggerà sempre su dalla flanella di cotone. E questo, anche questo, secondo me, non è per niente poco. Quindi, qua ha una serie di bottoni a due a due che io vado ad attaccare e dei velcri. Ora, io poi vado ad attaccare giusto adesso gli ultimi per non stare qua tutto il tempo. Perché sennò diventa... Sì, sì, vabbè, è giusto per avere un'idea, ok? Esatto, è solo per avere un'idea. Quindi vado ad attaccare giusto l'ultimo bottone così. Però qui ha bottoni e velcro per cui viene completamente poi chiusa. Già col velcro si vede. Allora, questa parte la regolo stringendo questa pulizia che c'è qua sopra. E così vedete che già non balla più. Sì. E qui ha un manicotto meraviglioso, anche dove mettere le mani. Ok. Capiamo bene l'utilizzo perché è la versatilità delle cover. Per cui io ho la cover, qui sono caldissima, mi metto sulla mia giacca e sono a posto. Ok. Siamo caldi. Allora, a me sicuramente il lato positivo di questa cover è la parte interna di flanella di cotone. Quindi, se io sono, per esempio, parlo per me ovviamente, è la mia di esperienza, ma io sono una persona che viaggia sempre con i maglioni di lana, costantemente. Per cui una cover così, con un bambino, secondo me è molto utile avere la parte interna di flanella. Il bambino poi è molto calvolto. Infatti ti volevo chiedere questa cosa. Cioè, a livello di temperatura, è tanto calda? È calda, viene considerata. Ci sono dei livelli di temperatura fino a 7, 10, insomma. E lei mi sembra che sia fino a 6. Cioè, è proprio molto calda, viene considerata. Quindi, intanto, è veramente, veramente caldo perché è super avvolto dentro questa giacca. Ok. Questa è, diciamo, quella un po' più magari anche complessa da spiegare e non è che è stato appunto poi così complessa. No, no, certo, non è che è stato così difficile, però richiede magari un pochettino più di attenzione rispetto, cioè il fatto che devi prima metterti questa parte, poi devi prendere, no? Quindi un pochettino più di dettagli da regolare, no? Sì, magari ci vuole. Siccome, vabbè, io questa l'ho sempre vista in foto perché credo che sia anche una un po' di quelle storiche che provocono. L'ho sempre vista da loro. Ma indossata con, ad esempio, una fascia? La trovi comunque adatta o secondo te diventa troppo macchinosa questa? Questa qua? Allora, perché secondo te dici che potrebbe essere macchinosa? Eh, perché hai quella parte, no? Tra te e poi il bambino. Sì. E la parte che devi poi legare, eventualmente aprire, cioè non lo so. Sì, diciamo, beh, allora in realtà il pannello ti rimane molto basso. È vero che devi considerare nel momento della legatura come se tu hai su uno strato in più, cioè se tu hai su uno spessore. Sì, no, nel senso che la cosa che penso è che tu comunque hai questa parte, poi tu metti il tuo bambino, ti fai la tua legatura, ancora nel frattempo hai la parte che si scende proprio come un grembiule, no? Come hai detto tu all'inizio. E quindi resta poi all'esterno, la chiudi, giusto? E finisci gli ultimi dettagli, no? Sicuramente è comodo. Se fai una legatura è più comodo chiuderla dietro, perché comunque appunto davanti poi hai il pannello che ti sale, quindi probabilmente se chiudi dietro e si fa il nodo dietro, a quel punto non vedo neanche il fastidio. Ci sono poi per esempio invece delle cover che sono sicuramente più facili sulle fasce, che sono per esempio che è questa qua. Però questa è così bella, io la trovo così tradizionale e bella, lo devo dire. Lo devo dire, lo devo dire. Allora... Certo, però appunto logicamente vedendole no da qua, a me l'unica situazione che mi è venuta è, siccome è un pochino più elaborata, magari con un marsupio risulta più pratica, mentre magari con una fascia, poi sempre dipende magari da che legature devo andare a fare, logicamente, uno è di optare per altre cover. Poi è logico che... Ecco, forse, forse, come allora potrei concludere, magari mi avrebbe da dire, allora forse se sei una neofita delle fasce, magari non è proprio la cover che mi viene da indicare. Quindi magari è preso un marsupio, sì, fasce, neofita, nì, magari questo è meglio. Adesso te la faccio vedere, questo è oggettivamente più anche istintuale, anche proprio nell'essere messa. Per cui, questa è la famosa... Allora, questa è... Anche questa non ha un... uno strato che si attacca e si stacca, ok? Quindi ha proprio questo tessuto che si chiama soft shell. Innanzitutto provo a mostrarla un po' per intero. Scusate, il colore è nero, quindi probabilmente non si vede molto. Ha dietro delle cinghie, così, e una sotto. Allora voi bene immaginate che io ho le cinghie, adesso le vado ad allargare un pochino perché io... Voilà. Che sì, sono molto, molto regolabili, per cui veramente adattabili a qualsiasi corporatura. Quindi io ho queste mie cinghie, sono incrociate e le infilo come una maglietta. Per cui infilo la maglietta, infilo le braccia, in mezzo, voilà, e poi regolo, no? Ok. Regolo dietro. E anche una cosa qua, aspetta, ho anche quella qua dietro così, per far aderire ancora di più la... e tutta. Adesso poi te lo faccio vedere perché in realtà si apre, per cui c'è proprio lo spazio per i piedini, che purtroppo con il nero non è l'ideale, non si vede tanto. Senti Alberto, nel frattempo io sto facendo scorrere, perché mi sono salite tutte, e sto cercando, se mi dico il dito che sono così, è perché... sto cercando di recuperare, sono salite tutte le cose, vabbè, veniva chiesto se la giacca può essere messa anche sotto la cover, penso la domanda fosse comunque generale, e non specifica sulla cover di prima, e adesso aspetta che torno al posto giusto, e poi invece se la cover di prima richiede poi... tu hai detto che si può lavare comunque tranquillamente, però se richiede dei trattamenti specifici o no. Ma allora va lavata con il detersivo per la lana, consigliano di astenersi dall'asciugatrice, ovviamente, e di non strizzarla. Io ho queste sono le indicazioni che do la mani precise, precise sulla cover, questa qua di lana, per cui mi viene da dire un pochino come noi trattiamo la lana in casa. La lana normalmente, certo, certo. La lana normalmente io la lavo così, quindi va trattata come la lana, perché comunque la franella di cotone reagisce un po' come la lana, per cui va trattata nello stesso modo. Ok. Ok? Sì. E poi, appunto, invece, il discorso che adesso tu hai mostrato la giacca sopra, e eventualmente... Questo rispondi tu, Virna, con la tua esperienza? Allora, di base, di solito... No, di solito, chi compra la cover mette la giacca lì sopra, poi secondo me dipende molto dal tipo di giacca, nel senso che se uno ha una giacca molto sottile, nulla vieta che uno metta la giacca sotto e poi dopo la cover sopra. Va da sé che, logicamente, si perde... Più uno mette strati, più uno perde il contatto col bambino. Quindi, se io devo metterlo... Tra l'altro... Poi, non so, dimmi tu, Virna, però mi viene da pensare che se metto una giacca, che magari tra l'altro è fuori l'esterno in Gore-Tex, quindi anche un po' freddo per il bambino che ci sta appiccicando. Sì, sì, certo. È vero che io metto la cover e lui è avvolto, però un conto se poi la sua parte sta attaccata con me e un conto se sta attaccata a una giacca, no? Sì, ma infatti, appunto, poi c'è anche tutta la parte, diciamo, un po' laterale, perciò, logicamente, se io ho la mia giacca resta proprio più avvolto, no? Invece, altrimenti, non è che passa l'aria, però un pochino... No, allora, queste sono super avvolgenti in modo laterale. È una cosa incredibile. Cioè, proprio... Arrivano... Se io le chiudo, veramente, arrivano dentro la mia giacca e oltre... Sì, sì, esatto. Per quello che, appunto, se tu la metti sotto, secondo me, è proprio la cosa ottimale. Mentre invece, se tu la metti sotto, sopra, non aderisce, secondo me, così bene. Poi, ripeto, dipende dal tipo di giacca, perché ci sono delle giacche, comunque, estremamente aderenti, che comunque, anche, sempre fatte, magari, di lana, eccetera, dove magari uno può anche metterla sopra. Però, di solito, nascono come possibilità di coprire il bambino e poi tu ti metti sopra la giacca. Sì, sì. Poi, appunto, soprattutto, secondo me, è proprio questo discorso di contatto, perché se io inizio a avere la mia giacca sotto, avrò già degli strati e poi metto il bambino, e poi, cioè, perdiamo proprio il contatto e anche proprio il beneficio legato comunque alla termoregolazione, perché più i corpi si toccano, più c'è il passaggio di calore, meno si toccano, non c'è, e quindi si disperde, quindi sfrutta, cioè, non si sfrutta quel pezzo lì, ecco. Ok. Scusami, ma appunto, ero qua che mi era salito... No, io ti vedevo a un certo punto che mi trovavo più. Sei super concentrata. Ok. Allora, poi c'è questa, appunto, anche questa è un pezzo unico, si chiama Softshell come modello, quindi Softshell vuol dire proprio conchiglia morbida. Vedo una domanda. Sì. Bimbo vestito più pesante o come in casa quando porto con la cover? È sufficientemente pesante? Dipende dalla cover. Inevitabilmente dipende da tante cose. Dipende da come ha vestito il bambino e dipende dalla cover. Su come vestire i bambini c'è un'altra bellissima diretta che è stata trovata con Davide su come vestire i bambini. sulla lana, la lana seta, tantissime cose che aiutano a tenere il bambino, comunque, a mantenere il bambino caldo. E l'altro fattore, ovviamente, è la cover che abbiamo. Ci sono vari, vari tipi di cover che garantiscono anche temperature diverse. Quindi, questa, anche questa, è appunto questo tessuto che si chiama Softshell che è un tessuto fatto di tre strati, idrorepellente, per l'antivento e che mantiene il calore. È un tessuto considerato moderno, ovviamente, e quindi considerato molto caldo. Se però, poi, io ho una, invece, cover così, che è un'antipioggia, fondamentalmente, un'antivento, vado a perdere la parte di calore. in generale, quando si compra una cover, ci sono le indicazioni di una, nella linea, diciamo, del calore, ci sono delle indicazioni. Comunque, quando si comprano i piumoni per la casa, ecco, niente da dire, anche Mamma Lila dà un'indicazione di questa temperatura. Per cui, questo è importante, bisogna veramente anche affidarsi nella scelta anche per questo, insomma, quindi, sia come siamo bambini che della cover che scegliamo. Comunque, per darti un'idea chiara, questa mamma che hai fatto la domanda, le due che stai presentando, perché magari, appunto, cioè, proprio come tu hai detto, io, proprio in mente, magari anche lei, quella più leggera che hai fatto, che ancora non hai fatto vedere, ma che hai solo mostrato velocemente, è un po' come se fosse tipo un poncio, proprio, di quelli della pioggia, un Q, un, quelli che si mettono per... un po' di più di un Q. è proprio quella cosa come se fosse una mattellina della pioggia, diciamo, per avere proprio idea della consistenza, anche, mentre invece la soft shell è proprio più pesante. Quella di lana cotta è proprio lana cotta, cioè, nel senso che la pesantezza, secondo me, è completamente diversa. Certo. Ti salta un po' la voce, Alberta. Ti ho persa, ti vedo, ma... Forse sei tornata. Vedo che sei lì, ma va a scatti, vediamo. Prova a parlare un po'. Adesso ti vedo. Ok, adesso ci sei. No, Alberta ti ho persa completamente. Voi la vedete? Datemi un segno. perché vedo la connessione di Alberta con la rotellina. Alberta, ti abbiamo persa. voi vedete me però, Alberta l'abbiamo persa, ma... Proviamo un attimo a farla uscire e farla rientrare. Allora, intanto, grazie per darmi un feedback perché logicamente non so quando è il problema, se è mio, se è suo, eccetera. Proviamo adesso a farla rientrare e nel frattempo vi invito eventualmente appunto a fare domande se ne avete. Vediamo un po'. No, non c'è proprio, l'ho proprio persa. Vediamo, faccio una piccola ricerca, vediamo se riesco a trovarla, aggiungerla io. Altrimenti Davide faccio entrare te. Davide è anche lui proprietario di Tabata Shop, ma immagino che in questo momento non sia disponibile e non abbia lì le cover. Vediamo un po' se Alberta ritorna, probabilmente c'è un problema di connessione. e comunque come vi sembrano queste cover? Le conoscevate, non ne avete mai sentito parlare, mi sembrano una buona alternativa alla giacca. Vediamo un po'. Eccoti Alberta, bentornata. Lo so, scusate, non so cosa sia successo, non capisco, quindi proprio non lo so. No, nel frattempo vabbè appunto, probabilmente c'era una connessione che perché vedevo la rotellina ti sei proprio bloccata, quindi siamo arrivati dove io sentivo a pezzi e stavi spiegando un pochettino le caratteristiche quindi in realtà abbiamo perso tutto quel pezzo. Esatto, cioè in realtà ok, di questa qua, di quest'altra. Certo. Cioè stavo parlando del softshell, giusto? Eh sì, però appunto non si capisce, abbiamo perso tutto. Allora, softshell che vuol dire fondamentalmente conchiglia soffice descresso è un tessuto moderno di tre strati che ha scusate il claxon fuori avrei finito? Ok, che ha la parte esterna che è la parte idrorepellente poi ha uno strato centrale che è lo strato traspirante e poi ha lo strato quello interno che è quello con cui noi entriamo, devono uscire da un parcheggio scusate con cui noi entriamo in contatto che è quello di Pile ok? Ok. Quindi, però è un tutt'uno sì, 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 sì. Funziona? In questa appunto, quindi Alberta, la differenza tra questa, a parte i materiali no? Comunque in questa tu non hai quella parte interna tra il tuo corpo e il corpo del bambino ma è direttamente appunto questo guscio come dicevi tu questa conchiglia esterna. Esatto. E l'altra cosa importante è che quella di prima è vero che la lana cotta è un pochino idrorepellente però questo qua ovviamente è totalmente idrorepellente cioè fortemente idrorepellente. inoltre ha delle caratteristiche leggermente diverse vabbè ha sempre sul collo la culica per regolarlo però ha il cappuccio e ha un cappuccio che si vedono ha tre righe queste due righe fanno sì che io lo possa piegare in questo modo e tenere proprio soltanto c'è da oggi il mio telefono e tenere soltanto una piccola parte oppure farlo scorrere e tra l'altro e renderlo più passante guardate è molto autoportante vedete io lo sto lasciando e il cappuccio rimane ben su per cui non è uno di quei cappucci che metto il cappuccio ma nella realtà devo passare tutto il tempo a tirarlo su invece è un cappuccio che sta molto bene su inoltre lo si può piegare in questo modo e fare un colletto dietro ed è comunque non è asportabile comunque questo cappuccio è proprio cucito anche questo insieme anche questo è cucito però si ripiega veramente molto bene per cui posso fare tranquillamente il mio collettino dietro non dà fastidio l'altra cosa l'altra cosa anche lei questo manicotto davanti con questa cerniera quindi l'altra aveva le tasche aperte invece questa ha una cerniera per cui rimane ben chiusa la regolazione invece sul bambino deve essere è fatta tutta con i bottoni e poi vengono chiusi ok per cui spostando i bottoni allungo diciamo un po' la seduta la parte della gambina del bambino quando sono tutti chiusi è più corta man mano che il bambino allunga apposso il bottone lo faccio scendere e ovviamente creerò più spazio cioè lo spazio più allunga ok quindi comunque invece in questo caso tu posizioni il tuo bambino nella fascia nel marsupio prendi la tua soft shell gliela appoggi sopra e poi vai avanti appunto a regolarla dove ritieni necessario sì esatto esatto questa anche questa cover si può portare avanti si può portare anche ovviamente quando portiamo dietro e anche in questo tipo di tessuto loro hanno fatto un lavoro per cui è privo di sostanze tossiche quindi è molto importante è lavabile questa volta in lavatrice tranquillamente a 40 gradi sconsigliano l'ammorbidente e sia su questo prodotto che su quello che vi farò vedere dopo perché sono idro repellenti consigliano ma ogni proprio loro dicono tot anni cioè nel senso se lo usiamo continuo di mettere sopra un prodotto che non vada a rovinare il materiale ma che fortifichi l'idro repellenza perché comunque magari lavandola appunto frequentemente negli anni cioè loro ci tendono a specificarlo anche sul sito proprio scrivono in un lungo periodo di passare ogni tanto questo prodotto per l'idro repellenza che alberta vendono loro o qualunque prodotto idro repellente nel senso che ci sono anche per esempio per scarpe cioè io li uso usati anche per gli scarponi per delle cose ogni tanto ce lo passo sai che mi hai fatto una domanda che non so magari davide ci sente può andare a vedere questa cosa loro indicano un prodotto specifico che tra l'altro secondo me è del loro paese per cui però non so se è un prodotto effettivamente che loro hanno sul sito che quindi potremmo effettivamente avere anche noi oppure era per dare un'indicazione a me sembrava un'indicazione ma magari mi sbaglio per cui se Davide ci vede può andare a vedere tra l'altro ecco adesso non lo so se può funzionare anche per questo prodotto però in alcune cioè col fatto che io vado tanto in montagna eccetera ecco Davide dice che non non lo vendono quindi lo compri quindi va bene qualunque prodotto ecco a me sembrava infatti un'indicazione la loro ti stavo dicendo che in alcune lavatrici di quelle proprie gettoni soprattutto nei paesi di montagna o tipo non so vai in vacanza in montagna e lo fai perché a me è capitato di farlo apposta in alcune lavatrici c'è proprio il trattamento all'interno della lavatrice che mette sulle giacche una specie di appunto prodotto per andare a aumentare questo discorso l'ho visto a Borgia non so dirti se c'è anche qui da noi è incredibile penso che sia tipo un detersivo che gli mettono in più in quel caso mentre invece non lo so perché quello degli scarponi è proprio una cosa che invece tu passi sulla superficie o spruzzi in altri casi e quindi ecco penso che ci siano anche qua diverse tipologie io penso veramente proprio nel lungo periodo con un uso veramente come uno farebbe con la giacca in montagna e gli scarponi però ovviamente loro ci tengono e specificano tutto allora penso di aver detto tutto mi sono ricordata tutto tasche cose avanti dietro ah no vedi che ho dimenticato un pezzo ho una cosa molto carina qua dove c'è il collo questo è l'interno e questo è il collo allora qua ci sono le bretelle che io vado a infilare eccetera per soprattutto le fasce qui però ha un gancio che io posso andare a staccare insomma e va a lavorare meglio sugli spallacci in caso per i marsupi per cui comunque ha una possibilità di variare per cui magari in base al supporto che tu hai ha più possibilità di legare questi ganci che ci sono dietro ci sono poi tutte le istruzioni dentro delle possibilità di come legarle e questo comunque è importante è una bella variante in più che male non fa perché così ovviamente hai più possibilità di utilizzarla ma secondo te così un po' a occhio ci sta bene anche un bambino grande grande nel senso che un bambino comunque un toddler in un marsupio toddler tu preschooler riesce a stare bello coperto o in questo caso no allora loro anche qui danno un'età che va dall'anno e mezzo ai due ok per cui in realtà sì poi certo dipende sempre da quanta gigante o no bravissima è sempre difficile dare delle risposte certe su questo vediamo se riesco a dare ecco l'aperta un po' al massimo vediamo se io l'appoggio qua allora aperta al massimo eh non si vede diciamo mi arriva abbastanza in basso eh per cui insomma dipende dal bambino potrei dire due anni ecco magari sì sì un paio d'anni ma magari non un bambino di quattro A cioè non proprio un appunto ok no loro scrivono un e mezzo due io potrei dire che probabilmente due anche per come era costituzione di solito di noi italiani che non siamo oddio ormai vedo persone sempre più altre forse sono io basta e misuro tutti misuro tutti per me e anche i miei figli quindi vabbè dipende forse come dicevi tu dipende dai figli però insomma loro danno delle indicazioni veramente generiche ovviamente e poi c'è questa super leggerina che è quella che vi dicevo che però a volte è tanto utile soprattutto primavera estate che uno pensa non mi serve in estate la covere però può servire perché a volte c'è vento anche se si va al mare per dire c'è la pioggia è sottilissima per cui proprio la rotola te la fichi infatti mi veniva da dire proprio da borsetta cioè te la tieni lì per l'emergenza e magari vai a farti la passeggiata all'improvviso non so appunto si alza il vento inizia a piovere e quantomeno lo copri esatto esatto e quindi è veramente veramente pratica il principio è lo stesso cioè funziona anche questa con dietro le sue bretelline per cui la vado anche questa a infilare a maglietta e poi a stringere per avvolgerla bene sul bambino i piedini però si infilano all'interno di una tastina ok che va a finire qua lateralmente ha sempre la sua pulisqua per stringere ad agiarsi bene al collo quindi farla aderire bene e ha anche lei questo cappuccio che io trovo veramente stupendo che è proprio super performante tra l'altro quindi di base cambia solo il tessuto in questo caso quindi le caratteristiche sono praticamente uguali un pochino cambia la differenza dei piedi però tendenzialmente cambia è perché è proprio più pratica è più da appunto da portarsi come dicevi tu di essere questa è un po' più simile sai il copri zaino quella è quella fatta in quel modo lì ecco però devo dire che non perde veramente la la tua performanza si può dire nel senso che io oggettivamente se tu mi fai una cover il cui obiettivo è che sia un paravento un parapioggia e poi mi trovo questi cappuccini che non arrivano fino alla fine della testa che li devo tenere io con le mani perché sennò cadono e invece io magari in quel momento ho sull'ombrello e magari tengo per mano l'altro già io insomma non sono felice perché non ho ottenuto quello per cui l'ho comprata quindi a me di Mamma Lila piace tantissimo se si è capito secondo me questo cappuccio perché proprio lo trovo che fa il suo allora questo è il famoso simpatex il famoso tessuto simpatico che appunto ha l'antidente e l'antifioggia pari quindi molto molto efficiente pari al Gore-Tex però tutto di fibre vegetali vegetali anche quello al colletto che se non non lo vogliamo lo si arrotola veramente quindi e rimane arrotolato quindi rimane rimane resta lì fatto a collettino veste anche questa ma dichiarano fino a circa l'anno e mezzo si è una taglia unica fino a circa l'anno e mezzo lavabile lavatrice e anche questa dicono niente ammorbidente niente niente asciugatrice e anzi in realtà questa dicono l'asciugatrice ha come si dice temperatura media io ma facciamo anche no no perché non lo so mi danno l'idea che poi magari ogni asciugatrice è diversa quindi la mia magari media è un tuo bollente e quindi prima che si sciolga tutto bravista quindi io proprio direi facciamo che asciugatrice facciamo anche no ma poi mi immagino anche che asciughino piuttosto in fretta perché in ogni caso insomma cosa c'è da asciugare è quello che stavo dicendo c'è questa cosa mentre la muovi si è già asciugata per cui mi sembra veramente un di più quindi anche se leggerete che c'è scritto asciugacite e c'è la sua media voi non siete un'asciugatrice certo e e questo è quanto insomma per mamma Lila sicuramente queste sono sono le cover che lei ha si poi ecco mi sembra che appunto oggi non è il tema di oggi però loro hanno anche la giacca che voi tenete loro hanno anche la giacca e la giacca ha sicuramente come dicevo prima lo svantaggio che magari la posso mettere solo io non è detto che posso metterla al compagno certo il vantaggio che è un è un tutt'uno io soprattutto vedo tantissime mamme perché poi comunque le giacche rimangono perché hanno delle applicazioni per cui in realtà io una volta che non porto più tolgo la mia applicazione e chiudo la giacca normalmente mi è rimasta una giacca certo in Gorotex o tipo appunto Symfatex perché loro non hanno il Gorotex quindi in Symfatex piuttosto che che è una giacca utilissima quindi anche quella può essere una soluzione cioè comunque mi serve e allora va bene cioè allora ci sta che mi compro la giacca tanto poi mi rimane insomma senti vediamo un attimo se arrivano delle altre domande nel frattempo allora ricapitoliamo un attimo che abbiamo mostrato le tre cover della Malina che sono una molto leggera proprio antipiaggio antivento la borsetta proprio diventa guarda no ma veramente sì sì una pallettolina certo ma senti hanno per caso anche una così te la butto l'amo questa qua nello specifico un suo sacchettino si sta giochiando se viene venduta magari con un piccolo sacchettino questa nello specifico o glielo potremmo proporre no bisogna proporglielo a Vicky perché allora questa qua super sottile no fondamentalmente un po' no per le altre no perché logicamente un minimo di gobro ce l'hanno ma questa che è così da borsetta potrebbe essere appunto messa all'interno io ti dico che questa da borsetta siccome ha i piedi fatti così adesso ci fai vedere la tecnica di piegatura però tu fai quello che vuoi se tu ribalti il piede il piede ti fa da sacca ok guarda ok voilà questa è la mia tecnica perfetto allora non serve neanche la sacchetta stupendo però adesso è la mia ok insomma ok poi appunto abbiamo un'altra che è quella soft shell quindi che è un pochino più pesante ha degli strati diversi gorotex file praticamente interno cioè gorotex è come il gorotex esterno fa l'interno però il gorotex è fondamentalmente un petrolato mentre invece il simpatex è di simpatex di fibre vegetali e poi questa qua che invece è di lana e flanella di cotone super morbida a contatto col bambino all'interno e non ha delle che arrivano dentro la scatola anzi la simpatex arriva nella scatola perché questa è in un sacchettino però si va detto assolutamente a Vicky che deve fare no vabbè ma io del sacchettino ce lo proponevo per quella lì perché appunto essendo da borsetta questa immagino che tu non so non puoi fare anche portafascia ce le metti dentro però quella là secondo me vabbè poi con la tecnica che ci hai fatto vedere è perfetta se no un sacchettino secondo me non ci sta male perché uno se la tiene l'imporsa e l'occorrenza la tira fuori però vedi che poi le soluzioni le trovo le soluzioni le trovo sempre sì 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 allora al momento aperto non sono arrivate altre domande ci sono diversi ciao 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 diversi saluti non abbiamo al momento altre domande vediamo se nel frattempo arriva qualcosa ricordiamo magari un attimo due cose di voi di Tabata perché non abbiamo detto né dove siete abbiamo accennato che c'è un nuovo negozio a Milano ma non abbiamo detto molto allora sì noi abbiamo aperto il negozio a Milano stiamo in Corso San Gottardo per chi non lo conoscesse la zona sud quella di Naviglio dove c'era da Arsena così quindi da Arsena parte parte forse San Gottardo e ci trovate stiamo davanti all'auditorium il negozio a Sesto Calende c'è sempre ci stiamo semplicemente trasferendo tra l'altro solo di qualche metro più in là è lo stesso stradone ma al posto che siamo un pochino più in là in questi giorni ci sposiamo anzi perché in questi giorni a Sesto siamo chiusi perché noi nella nostra fazia cercavamo di tenere aperto e anche fare il trasloco poi ci siamo guardati in faccia e siamo dei mazzi non è possibile non è possibile e approfittavamo di questa diretta dove abbiamo parlato delle cover di Mamma Lila per dare a chi ha ascoltato questa diretta e se qualcuno che l'ha ascoltato o che l'ascolterà sa anche di amiche che stanno cercando delle cover volevamo approfittare e dare un codice sconto che sarà utilizzabile fino al primo di febbraio quindi questo codice sconto vale per il 15% di sconto sulle cover che non è poco e lo sconto è Mamma 20 allora vediamo se io riesco a scriverlo io qua stavo provando a scriverlo ma mi sa che lo scrivo poi dopo Alberto quando sto a volo diretta poi me lo ridici e lo scrivo adesso dovrebbe essere venuto spero che nel frattempo tutto maiuscolo esatto tutto maiuscolo Mamma 20 e questo è uno sconto che diamo molto volentieri quindi eventualmente appunto o solo shop online o in questi in queste due realtà ecco Milano allora se venite in negozio meno dovete dire ce lo dovete dire a Davide ci dovete dire ah io vengo perché ho visto la diretta con Virna quindi ho il codice sconto e io faccio il codice sconto ok altrimenti online quando fate l'acquisto prima del pagamento c'è sempre avete un codice sconto inserita all'interno del codice sconto e ve lo calcola automaticamente e basta per il resto noi siamo sempre noi no poi ecco io la diretta poi la salvo se qualcuno la dovesse la stesse vedendo indifferita e non so sai a volte vengono delle domande dopo pensandoci o appunto guardandosi in un altro momento basta scrivere poi nei commenti e magari ritaggano Tabata Shop in modo che così ti arriva subito il tag volete qualcosa esatto di più tecnico sulle sulle cover taggate Tabata Shop così lo vedo anch'io e vi rispondo altrimenti se qualcosa sul babywearing Virna che come l'ho definita l'altro giorno è una consulente con la C maiuscola vi risponde grazie va bene Alberta dai io direi che ci siamo abbiamo detto bene o male tutto ti ringrazio ringrazio chi ha partecipato chi ci ha fatto le domande e saluto anche Davide che ho visto che ci stava seguendo e ci vediamo presto speriamo prestissimo nello stesso posto dai grazie mille tanta voglia grazie ciao Virna ciao buona giornata ciao 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 Grazie a tutti.